Buongiorno ragazzi, siamo in Ungheria, ancora a Budapest, dico siamo perché sono con il mio amico Davide e quest'oggi dove siamo andati Davide? In un posto per cui lui è molto felice, siamo al museo dei dolci e dei selfie Ebbene sì ragazzi, esiste davvero un museo interamente dedicato agli sfondi per fare i selfie cioè vi immaginate, è una cosa assurda, non so davvero cosa aspettarmi quindi scopriamolo Wow, già promette benissimo, ragazzi stiamo entrando, già è tutto rosa, Davide non sei felice Come una Pasqua, mi sento un confetto No way, fenicotteri adoro Yeah, tanti fenicotteri rosa Ah ragazzi, che meraviglia, voglio stare qui per sempre, morbidi, carini, bellissimi Cioè quanto sono queen dei fenicotteri, volete mettere? Comunque mi raccomando siccome io non sto scattando foto per vloggare Seguitemi su Instagram e fate degli screen a questo video e tagcatemi Wow, è una stanza tipo Lego, cos'è? Ah ti abbiamo scoperto, stai facendo un selfie anche tu con i fenicotteri Beh è un museo dei selfie, mi faccio il selfie con i miei comparozzi fenicotteri Non ci voglio venire al museo dei selfie, che cosa da femmine? Ed eccolo qui, in mezzo alla rosa Comunque ragazzi, non so se sapete come sia nato il selfie Che prima si chiamava semplicemente autoscatto Poi negli anni quando si è sviluppata la tecnologia dei cellulari con le fotocamere interne La gente ha iniziato a dire, mi faccio un selfie Che viene da self, ovvero me stessa in inglese Ed eccoci qua appunto con un bel set di porcellana e tazze da te super english Vuoi un po' di tè? Di tè, di me, di tè Ma dove sta andando? Che è Alice? Alice non seguite il bianconiglio Ma è bellissimo ragazzi, cioè guardate Una cameracchetta verde Wow, ciao Ragazzi sono messa in posa per voi, quindi andate con gli screen Wow, una galleria tutta rosa Stupendo ragazzi E ci avviciniamo ad una nuova stanza Cosa sarà mai? Un unicorn No, no ragazzi, ci devo salire sopra, stupendo Certo, mi aspettavo una grignera più colorata Però è un cavallo bianco alato Veramente non ce li ha le ali Un unicorno che non può volare Dai Sonia, vogliamo vedere la tua splendida agilità nel salire sopra quell'unicorno Sarò leggiandre con le far fanno Oh se Aiuto ragazzi È troppo alto Ma cosa fanno in questo? Aiuto a guardare tutto Ci sono, ci sono Quella è impazzita completamente Sta stangolando un unicorno Che frega Ah, ma tu fa frega Ai lì, cavallino Sei un po' statico Su niente, non ce la può fare Ok, chi mi aiuta a scendere da qua? Davide? Io non di certo Per come ci sei salito ci scendi Oh, non sei per niente un gentleman Non ho capito se si può andare da questo lato o meno Do una sbircetina Bellissimo Guardate ragazzi, è stupendo Wow, è tutto fosforescente Non so se vedete, ma è stupendo veramente Davide, ci sei? Sono qua Davide Usciamo, mi sta girando la testa Vedete solo i miei occhiali che si illuminano Wow, ho troppa luce Cos'è? La camera delle zebbre spiaccicate al muro Oh, degli juventini Saliamo per queste scale sparaflesciate Eh? No, nuvole ciliegie in cielo Beh, sarebbe molto meglio se piovessero ciliegie Anziché pioggia, effettivamente Davide, ho trovato il posto giusto per te Vieni qui Ah ah, per te che sei una testa di banana Ma la prendete? Brutte parole nei commenti qua sotto Guardate che bello ragazzi Un secco di banane Wow, che fa? Mangi Ecco tu che sei una scimmia Sì, ma queste sono banane per orango molto doltonici Sì, effettivamente rosa perché Troppi OGM Davide è appena diventato una LOL surprise Come la chiamiamo ragazzi? Per me è LOL fashion stupid Orango Orango Hanno un'ossessione con il rosa E anche con le banane a quanto pare Davide Andiamo? Niente ragazzi Sono la Miley Cyrus dei poveri Tre giorni Aiuto, come si scende da questo coso? Ok Grazie nel passaggio Sto per vomitare Va bene finalmente il mio relax personale Ecco qui il mio mondo barri Qua una bellissima sedia sdraio Tutta per me No vabbè ragazzi C'è qualcuno in piscina che sta annegando Ma è una piscina di caramelle E quindi quelle che fra un po' ci annegherà Sono io Ecco brava però prima di annegare togliti le scarpe che non ci hanno detto altro Niente scarpe in piscina e non toccate le banane Mi raccomando Eccolo qua Wow ragazzi sono un sacco di sprinkles Ok spero che non mi si appicchino tutti nei capelli Ho sporcato tutta la piscina Ragazzi scusatemi vado a fare una bella nuotatina No la macchina di Barbie Ho sempre sognato di guidarla Ok sono scema Il mio sogno Una piscina piena di palline Sapete ormai sono grande e non ci posso andare Ma questo è per grandi Quindi ora mi tuffo Vai Davide in stile libero Sei vivo? Oh yeah Davide spostati perché ti schiaccio Aiuto si affonda un sacco Ah no Oh oh non mi riesco ad alzare Ragazzi mi sta venendo la claustrofobia È nego veramente Ragazzi divertissimo Voglio uscire E adesso Ai maledetta Ma che cavo Lotto di pazzine Non seguite il mio esempio Ragazzi è bellissimo Vuoi una messa in piega come quella di quel cane lì Una spuntatina di unicorno Eh ma di chiudere per favore Non è come per i passaggi ai piedi Non è io Ah non sei una da spazio? No benché questo meraviglioso specchio Lo faccio pensare Guardate quante luci Lo voglio a casa mia È stupendo Ti prego Merrimi Sposami Quindi io adesso dovrei decidere fra no e Silly Ricorda che tutti i tuoi video qui li sto girando io Primo non è vero E secondo è una libera scelta Davide si è stato veramente carinissimo in tutto questo viaggio Quindi ho deciso che non ti sposerò Non mi avrai mai Ragazzi ma questi sì che sono degli unicorni Cioè si muovono Meravigliosi Peccato che non sono degli unicorni ma sono dei cavalli È vero non c'è il corno Davide finalmente ti puoi lavare In effetti faceva un po' di caldo Ma è tipo papelone Ma c'è una vasca piena di soldi Davide io te lo consiglio Vai sulla luna così che ci liberi della tua presenza Intanto io vi faccio una bella lavatina nei soldi Non c'è cosa più antigenica di questa Mani mani Maschi mani Sono tutta malissimo Ecco i soldi mi hanno dato alla testa Letteralmente Quando si dice farsi bagni nei soldi Ragazzi sono andata al bagno E sono caduti un sacco di sprinkles Cioè praticamente faccio la pupù degli unicorni Ma mi sa che sta squillando un telefono Rispondiamo? Pronto? Ah il museo sta chiudendo e noi stiamo rimanendo qui dentro? Molto bene Spero che vi siate divertiti quanto noi a vedere questo video Se così è mi raccomando fatecelo sapere con un pollicino in alto E ditemi se vi sarebbe piaciuto essere qui con me oggi Noi per oggi ci salutiamo Ma ci rivediamo prestissimo in un nuovo video Quindi ciao! Ciao!